ore 3 e 20 di notte non siamo ancora partiti da casa che Dario si è già accorto di aver dimenticato qualcosa ecco la storia della nostra vita lui che mi lascia abbandonato in fondo giustamente se non spendi almeno mezzo stipendio per la colazione in aeroporto che viaggio è e comunque faccio notare che siamo gli unici con una mascherina in tutto l'aeroporto niente ci hanno dirottato su un altro volo e stiamo correndo nell'aeroporto più grande del mondo e fra 25 minuti il nuovo volo parte ce la faranno i nostri eroi chi lo sa buon appetito buon appetito buon appetito in una giornata dove succede di tutto e non avvicinarti troppo anche non so se si vede si si vede si vede sta venendo giù acqua dalla plafoniera e il pavimento è completamente allagato io volevo usare questo ma c'è bagnato anche lì ok ciao siamo svegli è la prima mattina che ci svegliamo qui a miami sono successe tutte le cose che potevano succedere non ancora in realtà e che sarebbe stato meglio se non fossero successe tra aerei cancellati, rimandati, macchine a noleggio non pervenute alberghi prenotati che non ti rispondono e di dicendo però stiamo facendo un'operazione qua secondo ti dai gatti siamo a due passi dall'aeroporto infatti continuano a passare aerei e basta vediamo come andrà questa giornata perché può solo che migliorare in realtà il mio pilota super stressato dagli eventi però siamo partiti dai questo è il mio pilota è un egretto, è tutto bianco, è stando come una sore thumb so we'll probably see that and they come to the koele Grazie a tutti Grazie a tutti Dove siamo? Sullo sposto povero di Miami Sulla 97 di Miami Solo che qua sembra un tram di quelli vecchi di Milano Che però è un bus Che però è gratuito E questo fa capire tante cose che non possiamo dire nel video Io ho capito perché non abbiamo ancora comprato casa, Dario Perché in realtà tu volevi comprarla qui Una di queste ville stile veneziano Dillo Ma guardate Sono Iguana Sì Ma non è grandissimo Pissa te Dunque le previsioni davano pioggia per oggi Quindi noi stamattina siamo usciti dall'albergo Assolutamente impreparati a questo cielo terzo, caldo e sole E per non buttare via questa bella giornata di sole Abbiamo deciso di venire comunque qua Vabbè non si vede adesso perché c'è l'erba Sulla riva oceanica di Miami Beach E anche se siamo comunque vestiti Più o meno E quindi non possiamo fare il bagno So sad Però la giornata è bellissima e caldissima Sì, sono arrivati ieri Sì, sono arrivati ieri e stiamo facendo un po' di giri Ma ciao Siamo qua Passaggi da questa morla Scusami Cioè Mi porti in America per mangiare la pizza La pizza americana Dai, su Cosa sei tu? Dai scappi Fatti vedere Scusami fill Grazie a tutti.